Non appena si è diffusa la notizia del numero di telefono dedicato dal Comune all'emergenza a caldo presso i servizi sociali, è partita l'osservazione. Ci sono meno fontanelle di un tempo, apritene di più. È vero che si può trovare refrigerio tra fontanelle e case dell'acqua, come risulta dal sito di Padania Acque, in 178 punti nel Cremonese, 88 nel Cremasco e 36 nella zona di Casal Maggiore, ma il rapporto con l'elemento liquido è molto cambiato rispetto al secolo scorso. Con l'ozono a livelli molto alti, 171 microgrammi per metro cubo ieri secondo la centralina Arpa di Via Fatebene Fratelli, vicino alla sole di 180, e la massima che arriva facilmente a 36 gradi come ieri, e un clima quasi senza vento, di refrigerio si sente il bisogno, ma la prossima pioggia arriverà solo domani e venerdì, molto scarsa. Il sole dominerà poi in contrastato salvo sorprese per parecchi giorni. Il fiume Po è sceso a meno 7,40 m sotto lo zero idrometrico a Cremona e il minimo storico del 2006 è meno 7,84. Vita difficile dunque per chi fa i turni o lavora in ambienti surriscaldati, come fabbriche e cucine, o svolge attività all'aperto, come in agricoltura o nella gestione del verde. Cresce la voglia di un bagno in piscina, ma rischiare un'ustione è diventata la norma e la desertificazione sembra un destino segnato. L'amministrazione dell'oro blu si è fatta molto più cauta rispetto all'abbondanza del secolo scorso. Non a caso, lo sperpero notato di fronte alla cop di via del sale, dove veniva inondato un vialetto anziché il giardino, ha fatto sì che domenica una signora avvisasse direttamente, con un tono allarmato, il sindaco Gianluca Galimberti incontrato al parco di via dei classici. Si è poi saputo che spesso vengono derubati gli ugelli che erogano acqua nei giardini. È successo davanti al supermercato di via del sale, come in piazza Roma e in diversi giardini privati del quartiere Po. La riapertura della fontana di piazza Cadorna, non a caso, è stata richiesta a lungo dai cittadini, considerata l'esposizione al sole dell'area.